Le bugie sono come quella pianta, fra virgolette, quello che rimane di essa piena di spine. Ecco, chi le dice? Prima o poi, dieci anni, vent'anni, come molti dittatori hanno dimostrato di finire male, finirà così, spoglia, vuota, secca, inaridita, dalla vita stessa. Bugie, ritornano da chi le dice. Anche se, come tutto il male che viene fatto, si ritorna per spogliare l'ingannatore dei falsi fiori e metterlo nudo, facendo vedere le spine che tanto hanno fatto insaguinare chi ha creduto in loro. Diversamente, la vita che ti chiede di cercare e dire sempre la verità, è come questi fiori, splendenti, meravigliosi, che mi hanno fatto incantarne e guardarli passando di qua. Sì, la vita è così, meravigliosa, ti incanta. Se sai amarla e sai dire la verità, perché essa solo questo ti chiede, cercala sempre, ovunque essa sia. Anche la verità più brutta è meglio di una bella bugia. Allora, ogni verità che dirai sarà simile a questi fiori, porpuri, bianchi e gialli, di cui vestirai la tua vita. Già, basterà soltanto questo per soddisfarti. Qualsiasi sia ciò che sarà la realtà dopo questa vita, non ha importanza. L'importante è il presente, viverlo bene, essere sinceri, perché così, solo così, se non avrai amici intorno perché sono bugiardi, avrai la sua approvazione, che è la più grande, la migliore.